il gobbo tabagino il gobbo tabagino era un povero ciabattino che non sapeva come fare a tirare avanti perché nessuno gli dava mai neanche da ratoppare una scarpa si mise a girare il mondo in cerca di fortuna quando fu sera e non sapeva dove andare a dormire vede un lumino in lontananza e tenendo dietro il lumino arrivò a una casa e bussò aperse una donna e lui domandò alloggio ma questa disse la donna è la casa dell'uomo selvatico che mangia tutti quelli che trova se vi faccio entrare mio marito mangerà anche voi il gobbo tabagino la pregò e la supplicò e la donna si mosse a compassione e gli disse entrate pure e se vi accontentate vi seppellirò sotto la cenere così fece e quando arrivò l'uomo selvatico e cominciò a gridare per la casa tirando su dal naso e dicendo ucci ucci qui c'è puzza di cristianucci o ce n'è o ce n'è stati o ce n'è di rimpiattati la moglie gli disse vieni a mangiare cosa vai a pensare ora e gli servì una gran caldaia di maccheroni si misero a mangiare maccheroni marito e moglie e l'uomo selvatico fece una tale scorpacciata che a un certo punto disse basta io sono pieno e non ne mangio più questi che sono avanzati se c'è qualcuno in casa dagli a lui c'è un povero omino che mi ha domandato alloggio per stanotte disse la moglie se mi prometti di non mangiarlo lo faccio uscire fallo uscire pure e la donna tirò fuori dalla cenere il gobbo tabagino e lo fece sedere a tavola davanti all'uomo selvatico il povero gobbino tutto coperto di cenere tremava come una foglia ma si fece coraggio e mangiò i maccheroni per stasera non ho più fame disse l'uomo selvatico al gobbo ma domattina va avverto se non farete presto a scappare vi mangerò in un boccone così attaccarono a discorrere da buoni amici e il gobbo che era furbo come un diavolo cominciò a dirgli che bella coperta che avete sul letto e l'uomo selvatico è tutta ricamata d'oro e d'argento e con la frangia tutta d'oro e quel comò ci sono dentro due sacchi di quattrini e quella bacchetta dietro il letto è per far venire il bel tempo e questa voce che si sente è un pappagallo che tengo nel pollaio e che discorre come noi altri ne avete di belle cose non sono mica tutte qui nella stanza ho una cavalla di una bellezza mai vista che corre come il vento dopo cena la moglie riportò tabagino nel suo buco sotto la cenere e poi andò a dormire col marito appena fu giorno la donna mandò a chiamare tabagino su presto scappate prima che salzi mio marito il gobbo ringraziò la e andò via girò e girò finché arrivò al palazzo del re di portogallo e chiese ospitalità il re lo volle vedere e gli fece raccontare la sua storia a sentire tutte le belle cose che aveva in casa l'uomo selvatico il re fu preso da una gran voglia e disse a tabagino sentimi bene tu potrai restare qui nel palazzo e fare tutto quello che ti piacerà ma io voglio una cosa da te dica pure maestà hai detto che l'uomo selvatico ha una bella coperta ricamata d'oro e d'argento e con la frangia tutta d'oro ebbene devi andare a prenderla e portarmela se no ne andrà della tua testa ma come vuole che faccia disse il gobbo l'uomo selvatico mangia tutti è lo stesso che dire che mi manda alla morte questo non mi interessa pensaci tu e arrangiati il povero gobbo ci pensò su e quando ebbe pensato bene andò dal re e gli disse sacra corona mi dia un cartoccio pieno di calabroni vivi che siano a digiuni da sette o otto giorni e io le porterò la coperta il re mandò l'esercito ad acchiappare i calabroni e gli dia da tabagino eccoti questa bacchetta gli disse è fatata e ti potrà venire buona quando avrai da passare dell'acqua battila per terra e non aver paura anzi intanto che tu vai là io andrò ad aspettare in quel palazzo di là dal mare il gobbo andò nella casa dell'uomo selvatico stette a origliare e capì che erano a cena si arrampicò alla finestra della camera da letto entrò e si nascose sotto il letto quando l'uomo selvatico e sua moglie andarono a letto e si addormentarono il gobbo cacciò il cartoccio pieno di calabroni sotto le coperte e le lenzuola e la perse i calabroni sentendo quel bel calduccio vennero fuori e si misero a ronzare e a punzecchiare l'uomo selvatico cominciò ad agitarsi buttò giù la coperta e il gobbo la rotolò sotto il letto i calabroni si arrabbiarono e si misero a pungere a tutto andare l'uomo selvatico e sua moglie scapparono gridando e tabagino quando fu solo scappò anche lui con la coperta sotto il brazzo dopo un po' l'uomo selvatico si affacciò alla finestra e chiese al pappagallo che era nel pollaio pappagallo che ora è il pappagallo è l'ora che il gobbo tabagino porta via la tua bella coperta l'uomo selvatico corse nella stanza e vide che la coperta non c'era più allora prese la cavalla e via al galoppo finché non avvistò il gobbo di lontano ma tabagino era già arrivato alla riva del mare batteva per terra la bacchetta che gli aveva dato il re l'acqua s'apriva e lo faceva passare e appena fu passato si tornò a rinchiudere l'uomo selvatico fermo sulla riva si mise a gridare o tabagino di tredici mesi quando è che torni in questi paesi ti voglio mangiare un dì di quest'anno e se non ti mangerò sarà mio danno al vedere la coperta il re cominciò a saltare dall'allegria ringraziò il gobbo ma poi gli disse tabagino come sei stato bravo di portargli via la coperta sarai buono a portargli via anche la bacchetta che fa venire il bel tempo ma come volete che faccia sacra corona pensaci bene se no la pagherai con la testa il gobbo ci pensò e chiese al re un sacchetto di noci arrivò alla casa dell'uomo selvatico stette ad ascoltare e sentì che andavano a letto s'arrampicò in cima al tetto e cominciò a buttare manzate di noci sulle tegole l'uomo selvatico a questo tichettio sulle tegole si svegliò e disse alla moglie senti che grandinata va subito a mettere sul tetto la bacchetta se no la grandine mi rovina il frumento la donna salzò perse la finestra e mise la bacchetta sul tetto dove c'era tabagino pronto a prenderla e a scappar via di lì a poco l'uomo selvatico si alzò contento che avesse smesso di grandinare e andò alla finestra pappagallo che ora è il pappagallo è l'ora che il gobbo tabagino ti porta via la bacchetta del bel tempo l'uomo selvatico prese la cavalla e via al galoppo dietro al gobbo lo stava già per raggiungere sulla spiaggia ma tabagino batte la bacchetta il mare saperse lo fece passare e si rinchiuse l'uomo selvatico gridò o tabagino di tredici mesi quando è che torni in questi paesi ti voglio manzare un dì di quest'anno e se non ti manzerò sarà mio danno al vedere la bacchetta il re non stava più nella pelle dall'allegria ma disse adesso devi andarmi a prendere le due borse di quattrini il gobbo ci pensò su poi si fece preparare degli arnesi da taglialegna si cambiò d'abiti si miso una barba finta e andò dall'uomo selvatico con un'accetta dei cunei e una mazza l'uomo selvatico non aveva mai visto tabagino di giorno e poi lui dopo un po' di tempo di buoni pasti al palazzo del re era anche un po' meno gobbo quindi non lo riconobbe si salutarono dove andate per legna qui nel bosco di legna ce n'è quanta ne volete allora tabagino prese i suoi arnesi e si mise a lavorare intorno a una quercia grossissima ci piantò un cuneo poi un altro poi un altro ancora e prese a dargli colpi di mazza poi cominciò a impazientirsi facendo finta che gli si fosse incastrato un cuneo non vi arrabbiate disse l'uomo selvatico ora vi do una mano e ficcò le mani nell'apertura del tronco per vedere se tenendo la larga si poteva spostare quel cuneo allora tabagino con un colpo di mazza fece saltare via tutti i cunei e lo spacco del tronco si richiuse sulle mani dell'uomo selvatico per carità aiutatemi cominciò ad urlare correte a casa mia fatevi dare da mia moglie quei due grossi cunei che abbiamo e liberatemi tabagino corse in casa della donna e le disse presto vostro marito vuole che mi diate quei due sacchi di quattrini che sono nel comò come faccio a darveli disse la donna abbiamo da comprare la roba forse uno ma non tutte e due allora tabagino perse la finestra e gridò me ne deve dare uno o tutte e due tutti e due presto urla l'uomo selvatico avete sentito è anche arrabbiato disse tabagino prese i sacchi e scappò via l'uomo selvatico dopo molti sforzi riuscì a cavar fuori le mani dal tronco lasciandoci un bel po' di pelle e torno a casa gemendo e la moglie ma perché mai fatto dar via i due sacchi di quattrini il marito avrebbe voluto sprofondare andò dal papagallo e che ora è l'ora che il gobbo tabagino vi sta portando via i due sacchi di quattrini ma stavolta l'uomo selvatico era troppo pieno di dolori per correrti dietro e si contentò di mandargli una maledizione il re volle che tabagino andasse a portare via anche la cavalla che correva come il vento come faccio la stalla è chiusa a chiave e la cavalla tanti sonagli appese ai finimenti ma poi ci penso su e si fece dare una lesina e un sacchetto di bambagia con la lesina fece un buco nella parete di legno della stalla e riuscì a ficcarcisi dentro poi cominciò a dare delle punzecchiature di lesina alla pancia della cavalla la cavalla scalciava e l'uomo selvatico dal letto sentiva rumore e diceva povera bestia a male stasera non vuole star quieta e tabagino dopo un po un'altra punzecchiatura con la lesina l'uomo selvatico si stancò di sentire scalciare la cavalla andò in stalla la fece uscire e la legò fuori all'aperto poi tornò a dormire e gobbo che era nascosto là al buio nella stalla tornò fuori dal buco di prima e con la bambagia riempì i sonagli della cavalla e le fasciò gli zoccoli poi la slegò montò in sella e goloppò via in silenzio di lì a poco l'uomo selvatico come al solito si svegliò e andò alla finestra pappacallo che ora è è l'ora che il gobbo tabazzino ti porti via la cavalla l'uomo selvatico avrebbe voluto inseguirlo ma la cavalla l'aveva tabagino e chi lo pigliava più il re tutto contento disse adesso voglio il pappagallo ma il pappagallo parla e grida pensaci tu il gobbo si fece dare due zuppe inglesi una più buona dell'altra poi confetti biscotti e tutti i generi di dolci mise tutto in una sporta e andò guarda pappagallo gli disse piano guarda cosa per te sempre di questa avrai se vieni con me il pappagallo mangiò la zuppa inglese e disse buona così a furia di zuppa inglese biscottini confetti e caramelle tabagino se lo portò via con sé e quando l'uomo selvati quando alla finestra e domandò pappagallo che ora è dico che ora è mi senti che ora è corse nel pollaio e lo trovò vuoto al palazzo del re quando tabagino arrivò col pappagallo ci fu gran festa adesso che hai fatto tutto questo disse il re non ti resta che di fare l'ultima ma non c'è più niente da prendere disse il gobbo e come fece il re c'è il pezzo più grosso devi portarmi l'uomo selvatico in persona proverò sacra corona basta che mi faccia un abito che non si veda la gobba e mi faccia cambiare i connotati il re chiamò i più bravi sarti e parrucchieri e gli fece fare dei vestiti che non si riconosceva più e poi una parrucca bionda e due bai baffi così truccato il gobbo andò dall'uomo selvatico e lo trovò in un campo che lavorava lo salutò cavandosi il cappello cosa cercate sono il fabbricante di casse da morto disse tabagino e cerco delle assi per la cassa del gobbo tabagino che è morto è crepato finalmente disse l'uomo selvatico sono tanto contento che le assi ve le darò io e potete fermarvi qui a fare la cassa volentieri disse il gobbo l'unico inconveniente che qui non posso prendere le misure del morto se non è che per questo disse l'uomo selvatico quel birbone era pressa poco della mia statura potete prendere la mia misura tabagino si mise a segare le assi e inchiodare quando la cassa fu pronta disse ecco adesso proviamo se è della grandezza giusta l'uomo selvatico ci si streghiò dentro proviamo col coperchio ci mise sopra il coperchio e lo inchiodò poi prese la cassa e la portò dal re vennero tutti i signori dei dintorni misero la cassa in mezzo ad un prato e le diedero fuoco poi ci fu una gran festa perché il regno era stato liberato da quel mostro il re nominò tabagino suo segretario e sempre lo tenne in grande onore lunga la fola stretta la via dite la vostra che io ho detto la mia grazie a tutti